ciao ragazzi sono riccardo bentornati nel mio canale youtube oggi voglio farvi conoscere un piccolo saldatore usb del ron1 modello rgs 65 infatti è da 65 watt e può lavorare con temperature comprese fra 80 e 400 gradi si alimenta tramite il cavo usb tramite un alimentatore per telefonia tramite un computer tramite un power bank e ci permette di raggiungere la sua temperatura in soli 8 secondi pesa solo 35 grammi anche un display che ci dà tutte le informazioni necessarie ed è anche aggiornabile per quanto riguarda il firmware eccetera in realtà di questi saldatori esistono diversi tipi qualcuno addirittura molto costoso ma sono dei marchi blasonati di tutto il rispetto questo costa poco effettivamente costa 35 euro se lo comprate così nudo e crudo quindi senza accessori oppure circa 40 o 44 euro ricordo di preciso se lo comprate con alcuni accessori che farò vedere ma è possibile acquistare anche un alimentatore insomma con diverse configurazioni e quindi sceglierete voi quanto spendere per acquistarlo io ho fatto diverse prove utilizzato per alcuni giorni testandolo per bene e devo dire che obiettivamente mi è piaciuto funziona bene ma il primo che utilizzo di questo tipo quindi vi faccio vedere le sue caratteristiche facciamo un paio di prove così per vedere come si comporta e se vi piace poi alla fine compratelo utilizzate il link che vi lascerò nel primo commento e nella descrizione spero anche associando ad un codice di sconto quindi guardiamo questo rong one rgs 65 e vediamo come va questa è la confezione che mi è arrivata perché conteneva questi accessori anzi a proposito metterò da questa parte alcune schermate con le varie opzioni nei vari prezzi per poterlo acquistare con questa configurazione all'interno troverete un po di stagno stagno sottile poi troverete anche una punta che in questo caso è già montata quattro morsetti a coccodrillo che hanno questa protezione in silicone che si può ovviamente rimuovere ma nel caso in cui dobbiate lavorare con oggetti delicati potete anche lasciarle montate poi c'è quest'altra piccola scatolina e all'interno troverete un supporto che ci permette di utilizzarlo come terza mano ma adesso ve lo farò vedere e qua troviamo gli accessori appunto che vanno montati su questo supporto allora come vedete c'è questa parte in silicone che ho voluto montare perché effettivamente ha molto più grip nelle prime prove non mi veniva assolutamente difficile utilizzarlo in questo modo però ho fatto la prova inserendo e sicuramente avremo un grip maggiore montare e smontare la punta semplicissimo perché basta svitare questa parte si sfila poi la punta e per inserirla si fa la procedura apposta quindi si infila fino allo scatto dopodiché si reinserisce questo e si avvita adesso ve lo farò vedere da acceso prima vi faccio vedere anche la terza mano particolare perché abbiamo questa spugnetta nella parte centrale ovviamente va bagnata questa parte che può essere utilizzata oppure rimossa in base alle nostre esigenze e questi due bracci snodabili che è possibile posizionare in base a quello che dobbiamo fare e se ne possono montare ben quattro si fissano avvitandoli e hanno un sistema di contro dato che ci permette di bloccarlo ed evitare che ruotando in questo modo si sviti a proposito di abitare svitare anche questa parte a coccodrillo va abitata e svitata viene tutto accompagnato da un manuale di istruzioni molto semplice però effettivamente chiaro anche se a me è arrivato in inglese quindi abbiamo la descrizione del prodotto con tutti i componenti la spiegazione di come si inserisce alla punta come ho fatto vedere poco fa alcune informazioni tecniche per quanto riguarda l'alimentazione da 5 fino a 20 volte se utilizziamo un alimentatore più potente raggiungeremo prima la temperatura il modello rgs 65 la modalità di utilizzo del display quindi in base alla pressione dei tasti possiamo anche attivare un menu e un sotto menu dove dare alcune impostazioni per esempio possiamo cambiare il linguaggio che però è solo in inglese e cinese possiamo per impostare uno step di temperatura oppure possiamo impostare dopo quanto tempo deve andare stand by possiamo pure impostare anche l'hibernazione e anche l'unità di misura delle temperature quindi gradi gesti oppure gradi fare nette la possibilità di ruotare il display perché ovviamente se viene utilizzato con la mano destra il display sarà leggibile in questo modo con la mano sinistra invece il display verrebbe ribaltato quindi abbiamo la possibilità anche di ruotarlo e da quello che ho letto mi sembra che sia in collaborazione con lo xiaomi poi possiamo decidere se deve accendersi immediatamente una volta collegato all'alimentazione oppure se dobbiamo premere il tastino per poterlo accendere possiamo calibrare anche la temperatura nel caso in cui per esempio con una sondina verifichiamo che la temperatura riportata sul display non fosse esatta rispetto a quella che abbiamo effettivamente rilevato e poi abbiamo anche la possibilità di aggiornare il firmware e di vedere quale firmware è installato tramite l'apposito comando ovviamente non vi farò vedere tutto altrimenti impazziremmo allora colleghiamolo direttamente all'alimentazione elettrica vi voglio fare vedere quanto sia veloce prima collegandolo ad un'alimentazione classica tipo quella del cellulare e poi ad un alimentatore power delivery quindi da 20 watt inserisco quindi il cavo usb nella presa una volta acceso compare il modello e dopo questa animazione che invita a premere il tastino di accensione a questo punto come vedete abbiamo la percentuale di lavoro sta arrivando al cento per cento la temperatura sta salendo molto rapidamente già siamo a 150 gradi e qua abbiamo la temperatura impostata quindi 420 gradi ho impostato una temperatura molto alta per farvi vedere quanto tempo impiega non sto guardando il tempo che scorre comunque vi rendete conto della sua velocità man mano che poi raggiunge la sua temperatura ovviamente questa percentuale si abbasserà fino a stabilizzarsi circa al 20 per cento perché mantiene la temperatura poi aumenta nuovamente per esempio quando stiamo saldando e ciò che stiamo saldando ovviamente assorbirà un po di calore quindi abbiamo raggiunto 422 gradi come vedete la percentuale si sta abbassando allora facciamo una prova prima di tutto a sciogliere un po di stagno sottile vi faccio vedere effettivamente a quanto sia rapido come vedete è velocissimo si tratta di stagno sottile quindi impiega davvero pochissimo tempo ma proviamo anche con uno stagno un pochettino più grosso e vediamo se in questo caso oppure veloce oppure no come vedete anche in questo caso è davvero velocissimo però utilizziamo un tappetino altrimenti sporco tutto allora facciamo una prova vi voglio fare vedere come si entra nel menu bisogna premere contemporaneamente questi due tasti e come vedete abbiamo la possibilità di scorrere quindi in questo caso vedere la calibrazione della temperatura tutto quello che vi ho detto poco fa il linguaggio che in inglese e cinese eccetera eccetera io però non ho modificato nulla quindi adesso lo spengo aspetto che si raffreddi cambio alimentatore vi faccio vedere anche la differenza di velocità che poi anche la velocità che avete appena visto effettivamente è molto rapido si riscalda molto rapidamente ci permette di lavorare tranquillamente però siccome abbiamo la possibilità di verificare effettivamente quanto sia più veloce facciamo anche questo test adesso finalmente si è raffreddato posso toccarlo tranquillamente è completamente freddo quindi collego l'alimentatore da 20 volt si accende anche in questo caso ovviamente dobbiamo premere il tastino e guardate quanto sia veloce a riscaldarsi non c'è paragone rispetto a poco fa già abbiamo raggiunto praticamente a 300 gradi e siamo praticamente già a 420 gradi impiega e si vede anche il fumo impiega davvero pochissimi secondi non ho contato i secondi ma avete visto effettivamente quanto sia rapido e in questo caso automaticamente è impostato 20 volte nel caso in cui però non dovesse riconoscere automaticamente a cosa è collegato allora potete modificarlo voi tramite questo meno tramite il tastino a scorriamo tra le voci mantenendo premuto il tastino b invece entriamo nel sottomenù ricordandovi che io non sono un saldatore ma sono semplicemente lobbista facciamo quindi questa prova di saldatura e questa è la saldatura che ho ottenuto come vedete è riuscita perfettamente in base alle mie capacità però il saldatore è riuscito a saldare senza nessun problema quindi ragazzi come avete visto questo piccolo saldatore è molto comodo perché portatile comodo perché oltre a essere portatile si può alimentare come abbiamo visto tramite un normalissimo caricabatterie oppure tramite usb in macchina o power bank anche gli accessori in dotazione sono molto interessanti tra l'altro in alluminio come in alluminio il corpo del saldatore secondo me è valido poi vedete voi in base alle vostre esigenze in base al prezzo se vi piace date un'occhiata giù al link che trovate nel primo commento nella descrizione ed eventualmente acquistato sperando ripeto di associarlo anche ad un codice di sconto detto questo non mi rimane che ringraziarvi di avere visto il video fino in fondo vi invito ad iscrivervi cliccate giù pure sul pollicione all'insù per farmi capire che il video vi è piaciuto cliccate sulla campanella per rimanere aggiornata e ci vediamo tutti i miei prossimi caricamenti ciao da riccardo ea presto